Tragedia sfiorata ieri a Giulianova quando Nicola Dell'Orso, settantenne, ha imbracciato il fucile regolarmente denunciato e ha sparato alla moglie, Giovanna di Buonaventura, di 64 anni. Fortunatamente la donna è riuscita a schivare il colpo e da lì è nata una colluttazione tra i due, cessata con l'arrivo dei vicini, allarmati per le urla. La donna, che durante l'aggressione ha subito un colpo alla testa, è riuscita a fuggire dopo aver disarmato il marito che in seguito l'ha raggiunta tentando di strangolarla. Ma solo l'intervento del vicinato ha evitato il dramma. La 64enne è stata trasportata in ospedale e poi dimessa. Per il marito, scattato il fermo, con i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del capitano Antonio Trombetta, che intervenuti, hanno accompagnato Dell'Orso in caserma prima di arrestarlo. L'avvocato Angelo Palermo, che assiste Nicola Dell'Orso, ha da subito escluso il movente passionale, collegando l'accaduto al recente stato di salute mentale del suo assistito, che subito dopo il tentato omicidio sarebbe apparso in profondo stato di shock. Toccherà ora al PM Enrico Medori stabilire dinamica e movente di una vicenda che ha scosso la cittadinanza giuliese. L'arma, come detto regolarmente denunciata dal settantenne, sarà ora sottoposta agli esami balistici del caso.